Come ti chiami? Zaccaria Da dove vieni, Zaccaria? Da Ghana Dove stai lavorando in questo periodo? Padula, Sipla Sipla, e che tipo di lavoro fai? Cosa fai? Distribuzione di mattoni, cementi, mocia, tante cose Stai imparando un lavoro? Sì, sto imparando Si chiama Orme nella sabbia Il progetto è attivato dalla Caritas della diocesi di Tegiano Policastro E teso all'inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati Sono dieci ragazzi che già da un mese hanno iniziato appositi tirocini formativi Presso altrettante aziende del Vallo di Diano Che hanno aderito all'iniziativa Provengono dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Guinea e dal Mali E sono giunti in Italia dopo roccamboleschi e drammatici viaggi della speranza Partendo dalla Libia e sbarcando all'Ampedusa Dallo scorso mese di agosto sono ospitati dalla Caritas Diocesana Della diocesi di Tegiano Policastro Presso la fattoria Alvaneta di Padula Utilizzata come struttura temporanea per minori non accompagnati Provenienti dall'emergenza nordafricana In questo periodo i ragazzi hanno regolarizzato la loro situazione dal punto di vista burocratico E seguito appositi corsi di alfabetizzazione Dallo scorso mese di giugno grazie all'iniziativa della Caritas Hanno ora la possibilità di partecipare a tirocini formativi Della durata di sei mesi finalizzate l'apprendimento di un mestiere Al successivo inserimento nel mondo del lavoro Il progetto Orme nella sabbia presentato ieri presso il Family Center Nell'area industriale di Polla Ha visto l'entusiastica adesione di diverse aziende del Vallo di Diano Site a Padula, Sassano, Buonabitacolo, San Pietro Altanagro, Teggiano e Polla Tra i mestieri che i ragazzi stanno apprendendo ci sono quelli di panettieri, idraulico e operaio specializzato Insomma tutte quelle attività che possono mettere in risalto le abilità manuali di questi giovanissimi Pieni di buona volontà e di entusiasmo Nonostante le drammatiche storie personali che li hanno costretti a cercare rifugio e speranza in un paese straniero Grazie